Un'altra storia di solitudine è quella che arriva da Villammare. Un'Ucraina di 68 anni è stata ritrovata nel letto in stato confusionale. La sua casa era in pessime condizioni igieniche, segno evidente che da tempo si era abbandonata a se stessa. Viveva da sola in una villetta alle ginestre, avuta in eredità dal marito, scomparso alcuni anni fa. Un giornalista siciliano che si era ben radicato sul territorio, tant'è che si è fatto tumulare nel cimitero di Vibonati. La donna, che non ha figli, una volta rimasta vedova, si sarebbe lasciata travolgere dalla solitudine fino a non prendersi cura della sua salute e della casa. Ad accoggersi di quanto stava accadendo, è stato un amico che non vedendola da tempo si è recato presso l'abitazione della signora. È stato lui ad allertare le autorità competenti. Sul posto sono giunti il comandante dei vigili urbani, Antonio Quintieri, e gli uomini del comandante dei carabinieri Barile. La 68enne è stata subito trasferita presso l'ospedale di Sapri. Le sue condizioni non destano preoccupazione. I servizi sociali, in particolare, insieme al comune, dovranno valutare quale percorso intraprendere per ristabilire le condizioni di salute psicologiche della donna.